San Sulek mangia veramente così male, la sua dieta sta facendo tanto scalpore perché è assolutamente non convenzionale e io lo so che voi volete un mio commento no, super fan del mangiare healthy con la provenienza delle fonti tutto preciso, il timing eccetera quindi ecco qua il mio commento del video il ragazzo non mangia riso e pollo, non fa 6 pasti al giorno e soprattutto applica una concezione di if it fit your macros ossia l'importante è che io matcho i miei macros giornalieri cioè non c'è differenza se i miei carboidrati vengono dai cereali super zuccherati o da un riso o un riso integrale l'importante è arrivare alla mia quota di carboidrati, grassi e proteine in questo video analizzeremo la dieta di San Sulek e cercheremo di vedere i pro e i contro di questo approccio prima di partire come sempre ti ricordo che per fare questi contenuti impieghiamo tantissimo tempo risorse sia per fare ricerche sia per montarli per la parte di editing, per le grafiche quindi un tuo like e soprattutto un'iscrizione al canale è veramente di grande aiuto per noi che ci indica che stiamo andando sulla buona strada e che vale la pena investire ancora di più su questo canale torniamo al video visto che l'approccio di San Sulek è quello del if it fit your macros partiamo analizzando proprio i macronutrienti a livello di proteine sta poco sopra i 2 grammi per chilo di proteine nobili quindi il totale è leggermente più alto sta circa un grammo per chilo di peso corporeo di grassi il resto delle calorie sono i carboidrati che in fase di ossison sono il macronutriente che spinge di più per crescere già vedendo questo la prima cosa che salta all'occhio è che le proteine sono tendenzialmente elevate abbiamo parlato spesso abbiamo ormai visto che non serve stare ad altissimi livelli di proteine per ottimizzare la crescita anche se poi abbiamo tutta una serie di ricerche che testimoniano l'efficacia delle stesse quindi una spinta proteica nello stimolare in acuto la sintesi proteica che non è un collegamento diretto al cresco di più eh sia ben chiaro dunque di nuovo torniamo al punto che non è che stare a proteine alte alte è di per sé inutile è che conviene mantenere in un range medio circa un grammo e mezzo due grammi per chilo totali ma poi spingere la proteosintesi con aminoacidi essenziali che hanno un impatto molto più forte e pesano di meno da un punto di vista gastrointestinale da un punto di vista invece di grassi e carboidrati beh qua è la perfezione nel senso un grammo di grassi per chilo di peso corporeo ci sta e per quanto riguarda i carboidrati sono effettivamente il macronutriente che conviene di più spingere sia in fase di salita sia in fase di discesa un altro aspetto da analizzare per la dieta di samsule che è il timing ora sam fa di media tre pasti giornalieri più uno shaker nei post workout ecco quello che immerge dai video dei suoi full day of eating è come lui gestisca tutto quanto per essere quanto più performante possibile nel quotidiano e in sala vediamo la sua routine in primis si sveglia e fa un pasto prima del suo cardio e in questo pasto si idrata molto quindi inizia a bere veramente tanto integra con sale e minerali che è di fondamentale importanza perché giustamente noi arriviamo al mattino appena svegli che abbiamo perso liquidi durante la notte fino anche a uno o due litri d'acqua a questo punto dopo questo primo pasto si riposa un po', rilassa e poi va a fare il suo cardio quindi arriva facendo cardio in maniera performante abbiamo già detto il cardio a digiuno di per sé non è obbligatorio per dimagrire il momento ideale per far cardio è un momento in cui siamo performanti che sia a digiuno, per molte persone funziona meglio, che sia dopo uno o due pasti a questo punto tornato dal cardio si fa un altro pasto che sarebbe poi il suo pre-workout il pasto prima dell'allenamento e da là si fa un bel riposino pomeridiano quindi si distende, si rilassa e si fa una pennichella si sveglia, che praticamente è fatto sera e tardi lui sta molto shiftato sulla notte si fa un pre-workout insomma gli integratori proprio immediatamente per caricarsi un po' in sala si allena dopo l'allenamento si fa lo shaker del post-workout denso di ciclodestrine e proteine e poi fa un altro pasto che non è tanto eccessivo, tanto elevato che sarebbe il pasto post-workout dove a volte per fare video o in generale nel suo quotidiano ci mette un cheat meal ma attenzione il cheat meal lo mette alla fine dopo essersi allenato quindi non vuole compromettere la performance e qua vediamo che i concetti del timing dei nutrienti cioè concentrare il grosso di carboidrati a ridosso dell'allenamento vengono perfettamente rispettati perché si sveglia, fa un pre-impasto poi fa subito un'attività cardiovascolare poi il post-cardio che sarebbe anche il pre-workout ha una buona dose glucidica nell'immediato post-workout ci arriva una botta di carboidrati e poi fa un altro pasto in realtà semplicemente Sam fa pochi pasti li concentra attorno a quelle che sono le due attività principali che fa cardio e allenamento in sala pesi quindi perfetto ora l'ultima parte sta nelle fonti alimentari cioè quello che effettivamente Sam va a mangiare come fonte e questo è il grosso del problema perché le fonti non sono ottimali molto spesso mangia fuori molto spesso utilizza degli alimenti processati preparati mangia tantissima carne rossa non ceva le fonte di proteine insomma non è la cosa peggiore del mondo nel senso che non mangia cheat, junk food tutto il giorno stile strongman però non è neanche una scelta ottimale cerchiamo di capire meglio perché molti dicono vabbè Ludo quello che ti pare ma questo fottorello sta crescendo i risultati li ha ma allora le fonti sono veramente così importanti il discorso della scelta delle fonti che sta alla base poi del If It Fit Your Macros è che sicuramente basandosi soltanto sui macronutrienti con una scelta non ottimale delle fonti puoi raggiungere tutti quelli che sono i tuoi risultati estetici il problema sottostante alle fonti a parte il discorso eventuale digeribilità di timing di appesentimento problemi gastrointestinali che però vediamo Sam va a gestire alla perfezione il problema sta nel fatto che tutte queste fonti sono quelle che poi portano nel tempo allo sviluppo di patologie croniche o cronico degenerative quindi Sam è giovane fa attività cardiovascolare si muove una scelta delle fonti povere non impatterà mai così tanto e lui nell'immediato non lo va a vedere però la scienza dell'alimentazione ci dice che questo tipo di alimentazione questo tipo di dieta sul lungo periodo può portare all'insorgere di alcuni problemi quindi nel dubbio meglio evitare poi un altro discorso è che Sam non sta gareggiando in questo momento non sta gareggiando ad altissimi livelli pelli in cui ogni dettaglio ogni piccolo o minimo dettaglio conta capiamo sempre questo discorso io di per sé quello che è il mio lavoro come preparatore pro coach di bodybuilding è quello di ottimizzare io devo ottimizzare cioè non importa ottenere un risultato io devo ottenere il miglior risultato possibile fare in modo che il risultato sia a quel livello quindi che ogni cosa venga curata nel miglior modo possibile qua stiamo ottenendo dei risultati non saranno ottimali ma i risultati indubbiamente ci sono peraltro su questo ci sono passati tantissimi bodybuilder che sono arrivati a un certo punto della carriera di cui hanno testimoniato che all'inizio mangiavano sporco perché anche c'era poca cultura da questo punto di vista in bulk mangiavi, spingevi tutte le calorie l'importante che matchavi la quota proteica poi a un certo punto si sono iniziati a ritrovare con problematiche gastrointestinali vivere il bulk non nel migliore dei modi hanno detto guarda mi sa che devo mangiare pulito quindi la famosa distinzione tra clean food e junk food quindi ripitolando abbiamo visto tre punti la scelta dei macronutrienti che non è malvagia certo si potrebbe stare un po' più bassi di proteine e spingere con amminolacidi essenziali però non è troppo un problema in secondo il timing che in questo caso viene gestito molto molto bene da Sam e il terzo punto la scelta delle fonti che può essere ottimizzata ora arriviamo alla conclusione principale io quello che vi incentivo a fare è di non vedere tutto o bianco o nero o giusto o sbagliato ma di cercare di prendere come spunto del positivo da ciascuno perché ognuno ha del positivo da dare degli aspetti in cui non sono necessariamente negativi ma possiamo non essere d'accordo magari per te il positivo di Sam è proprio ah finalmente c'è qualcuno che mangia un po' più sporco un po' più libero posso farlo anch'io magari perché ho un atteggiamento troppo strict sull'alimentazione che se un alimento è minimamente processato già non lo vado a mangiare che mangia soltanto le cose bollite, verdure eccetera insomma ognuno il suo però Sam ci sta dando un messaggio in realtà molto importante che è quello che meno male il grosso lo possiamo fare ascoltando il nostro corpo che dovremmo inserire dell'attività cardiovascolare ogni giorno anche in fase di bulk che non serve mangiare mille mila calorie che l'aumento deve essere graduale perché Sam sale e scende sempre in maniera graduale ascolta la sua capacità digestiva insomma sono tutti piccoli messaggi super positivi per quella che è la community del bodybuilding quindi concentriamoci su quello poi le cose in cui siamo meno d'accordo si possono essere ottimizzati ma basta esserne consapevoli con questo è tutto ragazzi qualsiasi domanda sarò ben liato di rispondere scrivetela qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo